Aggressioni al personale sanitario, soprattutto nei pronto soccorso, un fenomeno purtroppo in crescita in tutta Italia. Fatti che indignano ma soprattutto scoraggiano il personale, che manifesta l'intenzione di lasciare soprattutto la medicina d'urgenza, anche se il fenomeno riguarda pure reparti ospedalieri e guardie mediche. La CISL di Catani e le sue due federazioni, CISL Medici e CISL Funzione Pubblica, nel tentativo di dare un contributo per tutelare la sicurezza, ha avviato la campagna Prendiamoci cura di chi si prende cura della nostra salute, che vuol sensibilizzare l'utenza sull'impegno del personale medico e paramedico e sul rispetto della professione, ma anche sollecitare le istituzioni a aumentare il personale e a individuare le azioni idonei a prevenire ogni forma di violenza in corsia. Ad illustrare la campagna sono stati Maurizio Attanasio, segretario generale della CISL Etnea, Massimo De Natale, CISL Medici e Danilo Sottile, CISL Funzione Pubblica. Dai dati forniti, sette aggressioni su dieci riguardano le donne, preoccupante il fatto che molti non arrivano neanche alla denuncia. Un fenomeno spesso legato anche a determinati contesti sociali. A Catania, nello stesso periodo in cui si sono contati quattro episodi violenti al pronto soccorso del policlinico, se ne sono verificati 22 al San Marco. La campagna CISL prevede presidi itineranti presso le strutture ospedaliere della provincia, dove tutti gli operatori sanitari indosseranno una spilletta con nastro giallo simbolo dell'iniziativa. La CISL chiede che siano le direzioni generali ospedaliere a prendersi il carico di avviare d'ufficio le eventuali azioni giudiziarie nei confronti dei violenti, che pronto soccorso della provincia di Catania siano tutti dotati di un posto di polizia e che la sanità alleggerisca il flusso di pazienti separando gli acuti dalle prestazioni differite, mediante il completamento della riforma sanitaria che prevede la medicina del territorio attraverso la costituzione delle case di comunità.